Ed ora per la pagina sportiva vi parliamo di una disciplina che i nostri connazionali in Sud America, soprattutto in Brasile, conosceranno molto bene. La pratica sulla sabbia e il foot volley, che è un po' una via di mezzo tra pallavolo e calcio. Allora il nostro Piercarlo Presutti ha incontrato due ex calciatori professionisti che lo praticano, il brasiliano Aldair e Max Tonetto. Vediamo questa intervista. Grazie a tutti. Grazie Monica. È quasi arrivata l'estate, anzi diciamo che per il meteo qui in Italia ci siamo già pienamente dentro. Parliamo dunque di uno degli sport da spiaggia più praticati al mondo, il foot volley, e lo facciamo con due ex calciatori di alto livello. Aldair, campione del mondo con il Brasile nel 1994, fece piangere la nazionale di Sacchi e Roberto Baggio, e Max Tonetto a lungo in Serie A tra la fine degli anni 90 e l'inizio del 2000. Benvenuti entrambi. Buongiorno. Tonetto, intanto ci rinfresca la memoria. Quali sono le regole del foot volley e quali sono gli appuntamenti di quest'estate importantissimi qui in Italia? Per far capire un pochino a chi non lo conosce ancora, diciamo che il campo è quello del beach volley. Le regole sono le stesse, soltanto con una piccola grande differenza, che si utilizzano i piedi, il petto, la spalla e la testa, non si possono utilizzare le mani. Ed è uno sport che nasce appunto in Brasile negli anni 70, sono i grandi maestri, i giocatori brasiliani, lo praticano 12 mesi all'anno, insomma c'è anche un clima che glielo permette. E quindi... Diciamo Copacabana, no? Si nasce a Copacabana... Sì, questo magari gli chiederemo a Aldo, sicuramente sì, Copacabana. Ed è arrivato in Italia grazie proprio ai giocatori brasiliani, a quelli che negli anni 70-80, da noi un po' più avanti, praticavano il calcio e ci hanno fatto conoscere questo sport nuovo. E noi mano a mano, insomma, ci siamo appassionati, ci è piaciuto tantissimo, negli ultimi anni abbiamo creato di fare qualcosa di più organizzato e per il secondo anno faremo un tour, dove prevederà sette tappe, di cui una parte di campione italiana e un'altra di pura esibizione e combattimento con giocatori sia italiani che stranieri di livello internazionale. Sono molti gli ex calciatori che lo praticano? Ce ne sono diversi, sì, nella maggior parte sono brasiliani perché conoscono già lo sport, però ci sono anche tanti italiani e gli ex calciatori che lo praticano e ci giocano. Ci sono, insomma, Oddo, Manzini, Taddei, Grosso... Amantino Manzini? Amantino Manzini, sì. Una domanda per Aldair, una curiosità. Lei ha avuto una carriera straordinaria da calciatore, ha vinto il titolo mondiale, che è il sogno di tutti noi che abbiamo dato due calci al pallone. Come vive l'esperienza nel football e dove magari non è così bravo come era nel calcio? L'esperienza è, come diceva Max, è un gioco che sembra facile, però non è così come sembra da fuori. Quando sei lì dentro, ha bisogno di tirare il pallone sempre verso l'arte, invece con il calcio... E' il contrario, il calcio, la palla, teoricamente deve stare a terra. Allora, qualche difficoltà, quando sta da iniziare, è comune. Si diverte molto? Cioè, molto... Si diverte molto tanto, io sono già un po' di anni che gioco, quindi... Tonetto, ecco, naturalmente i parametri cambiano, no? Cioè, Aldair è stato campione del mondo, forse non è il migliore del mondo a giocare a football. Lei era un giocatore di corsa, com'è nel football? Beh, direi che... Ora, non ho detto che lei non era tecnico. Sostanzialmente si utilizzano i piedi, però per chi viene dal mondo del calcio, come ha detto prima Alda, le regole sono completamente diverse. Ci hanno abituato per una vita, la prima cosa è mettere il pallone a terra, mentre qui la prima cosa del football è alzare il pallone. Quindi il gesto tecnico cambia, nonostante magari è ovvio che sei un pochino avvantaggiato perché hai delle conoscenze e è una tecnica che puoi utilizzare. Però le regole, poi il tipo di tecnica cambia, tant'è che, nell'esempio che avete fatto prima, le prime volte che ho giocato a football ero completamente spaisato. Chi sono i più forti? Il Tini e Franklin sono oggi i più forti, credo, al mondo, però ce ne sono almeno 5-6 coppie che sono allo stesso livello. Diciamo che il paragone può essere fatto come la NBA americana sta al basket europeo, più o meno grosso modo è quello. Oggi i brasiliani sono molto superiori agli europei, anche se il livello sta crescendo. Anche in Europa il livello si sta alzando di anni in anno. C'è un campeonato europeo? Tutti gli anni c'è un campionato europeo, in questo momento ne fanno parte anche gli israeliani, che sono gli attuali campioni in carica europei. Però poi il livello è abbastanza... Ah, gli israeliani sono forti? Sono fortissimi, sì. Degli ex calciatori, chi è il più bravo? Che ne so, Ronaldinho, mi viene in mente? Romario, Ronaldinho, però in Brasile ci sono tanti, anche i ragazzi che hanno finito di giocare da poco che vanno forti. Quanto vi allenate? Quanto tempo al giorno, a settimana? Guarda, qui forse in Italia si allenano poco. In Brasile i ragazzi, come diceva prima lei, i ragazzi vanno a mare in spiaggia presto a fare l'allenamento, una, due ore, perché bisogna anche imparare il gesto tecnico. Per questo sono avvantaggiato quando arrivano a 16-18 anni. Sì, certo, è un indone alla gioia continua in Brasile, eh, lì dalla mattina alla sera, ma anche la notte. A mezzanotte tu passi a Copacabana e trovi squadre che giocano partite meravigliose. Io a Rio mi sono trovato davanti Leo Junior, che me lo ricordavo dalle figurine che Alda sicuramente si ricorda, che a 60 anni gioca benissimo a foot volley. Era un giocatore straordinario, affrontò l'Italia di Verzotto al Mondiale dell'82, poi è stato anche qui in Italia, nel Torino, nel Pescara. I maggiori protagonisti di questo circuito vivono di questo sport? E come vivono? Cioè è uno sport che dà benessere? Benessere fisico certo, ma benessere economico. Puoi vivere di foot volley? In Europa ancora no, non ancora. In Brasile credo che le prime coppie, quelle più forti, oggi si possono chiamare professioniste, perché possono vivere di questo sport. Si sono create delle scuole di foot volley, hanno degli sponsor che si sono avvicinate a loro. C'è, credo, anche una trasmissione dedicata a questo in Brasile. C'è un campionato che è legato alle squadre in Brasile, giusto Alda? E quindi ci sono gli ex calciatori che giocano con i giocatori di foot volley. Quindi c'è un interesse mediatico continuo. Questo è molto bello. Recentemente c'è stato in Italia un torneo di padel del circuito mondiale. Il padel è un altro sport emergente in Italia, anzi è un vero e proprio caso. Tutti giocano a padel ormai. E i finalisti erano spagnoli e argentini, gente che guadagna un milione e mezzo, due milioni di euro l'anno. Quindi non dico come Messi, però ci si campa molto molto bene. Quindi io auspico che anche nel foot volley cresca tutto il movimento e con il giusto guadagno. Ma vorrei tornare allo sport che ha dato i geni, il DNA al futbolo, perlomeno il papà, perché poi c'è il volley, cioè il calcio. Aldair, l'Italia per il secondo mondiale consecutivo non sarà presente alla fase finale. Che dicono in Brasile di questa situazione? Che dicono in Brasile? In Brasile è chiaro che sono stato in Brasile tutto questo tempo, sono arrivato in Italia da poco, ho visto quasi tutte le partite dell'Italia, europeo che ha vinto l'Italia. Non credo che l'Italia meritava di stare fuori dai mondiali, però sapevamo che non è una cosa bella così per il calcio italiano di stare fuori dai mondiali. E' chiaro che i giornalisti e i tifosi italiani che vivono nel Brasile non sono contenti. Ma i brasiliani, ma i brasiliani che sono il calcio, cosa pensano di un paese come l'Italia che ha creato sempre tanti problemi al Brasile quando l'ha affrontato al mondiale, che sta fuori? Sono contenti perché ha un avversario in meno? Sono dispiaciuti perché l'atteggiamento mentale dei brasiliani invece è sempre di gioia, di inclusione? Ma in generale non siamo contenti, non siamo contenti perché sapevamo quanto è importante l'Italia, un mondiale senza Brasile, Italia, Argentina, questi qua, ma quello che diciamo non è un mondiale delle seguenti nazioni che hanno vinto tanto, quindi si perde tanto, e quello che si dice in generale in Brasile. Io c'ho una domanda per entrambi, siete stati entrambi colonne della Roma che ha chiuso la stagione vincendo la Conference League. Intanto è merito di Mourinho? E poi, l'ultima domanda per chiudere, l'anno prossimo la Roma è una pretendente allo Scudetto? Prima Aldair. Guarda, pretende di Scudetto? Secondo me no. Penso che la scuola serve a cuore dei cacciatori importanti. Quello è vero, Mourinho è arrivato a portare a casa una Coppa importante, merito suo, però secondo me serve anche a cuore dei giocatori importanti. La Conference è sicuramente un trofeo che porti a casa, un trofeo di livello europeo, quindi non parlerei di una vittoria in secondo piano, e sicuramente Mourinho è uno degli artefici. Da questi presupposti a queste basi, secondo me, si può creare una squadra che può avere un percorso vincente. Lo Scudetto è una parola importante oggi, in questo momento. Credo che l'obiettivo del prossimo anno a Roma sia trovarsi un posto dentro la Champions League, che già non sarà facile. Io ringrazio Aldair e Tonetto, divertitevi e tenetevi in forma quest'estate con il football. Io che ne avrei tanto bisogno di entrambe le cose, mi limito a restituire la palla a Monica.